Salmone affumicato, prosciutto cotto, prosciutto crudo, petto di tacchino, insalata di melograno, datteri ripieni, cocktail di gamberetti, avocado con pesche, crema di asparagi, code di aragosta con biscui di omar, uova sode con caviale, insalata di couscous, caprese di papaya, insalata di carciofi con mandorle, insalata messicana di melanzane, insalata di mele verdi, carpaccio di mele, ananas, formaggio rochefort, formaggio brie, formaggio lavash, chiri, formaggio camambar, formaggio feta, formaggio emmental, formaggio edam, formaggio cedar, formaggio cedar rosso, olive al pesto, olive verdi, nere, ripiene di acciughe, ripiene di peperoncini, ripiene di mandorle, capperi, raeta, cuttini di mango, cuttini di menta, zuppa fredda di mango con rosmarino, zuppa fredda di acqua di rose, zuppa fredda di cous, roti, papaz, samosa, paratà, pane europee, sogliola alla mugnaia con pesto di zucchine, tagine di verdure, riso di riani con verdure, riso di riani di pollo, quish di porri e cipolle caramellate, patata, ripiena di mais e asparagi, lasagne di ricotta e zucca, barba dal funghi al curry, ticca paner con menta, capolfiore vatanunda, spaghettini cacca con verdure, tofu di castagna in salsa di senape, zuppa lax di verdure, pollo con salsa al vino di riso, costina di maiale in salsa di miele e cannella, pollo dunca, vieria battica, paupiette di pollo con olive formaggio, pomodoro secco, goulash di agnello, magredana tra arrosto, costolette di maiale arrosto, coscia di maiale arrosto, creme caramelle, lemon pie, rabdi, baklava, halva, torta di ananas, beringata di fragole, mousse di cioccolato, torta di ciliegie, canna pies di fragole, panna cotta di mela, carmelita alla frutta, macedonia, cheesecake con mirtilli, rotolo pralinato, torta marmorizzata al cioccolato, yogurt cotto con fragole, creme brulee al caffè, tortina con pistacchi, parfait d'arancia, gelato alla fragola, gelato alla crema, gelato al cioccolato, gelato al caffè, strudel di pera, torta alla crema e frutta fresca, torta di mandorle, riso al latte. Il buffet del Tayotel, il mio Red Bombay, include due coppe di Moet Shandoni e costa 3500 rupie più le tasse. Le tasse non sono molto alte.